Buona giornata a tutti, esordio con gli occhiali come potete vedere perché ci sono gli ottici aperti e quindi gli anni passano per tutti. Ripartenza, riaperture, ricostruzione, lavoro, speranza, giovani, industria e questo su cui ci stiamo concentrando con proposte ad hoc settore per settore con concretezza, con coperture, con idee dell'Italia che verrà, cominciamo oggi con il settore turismo che è uno dei più colpiti, ringrazio Regione Lombardia che oggi ha dato a tutta l'Italia, a tutti gli italiani segnale di speranza, di ripartenza, visione, pianificazione del futuro, è in corso un consiglio regionale proprio in questo istante su quella che ormai tutti chiamano fase 2, però qualcuno ha solo il nome della fase 2, sono contento che Regione Lombardia stia lavorando per una riapertura ordinata, organizzata, a scaglioni rispettando le norme di sicurezza, rispettando le distanze, rispettando il lavoro da casa per chi può ovviamente chiedendo al Governo e allo Stato di fornire mascherine, guanti e tutto quello che servirà per la ripartenza. Ringrazio a proposito di iniziative concrete ulteriormente Regione Lombardia perché anticiperà per migliaia di lavoratori lombardi la cassa integrazione che qualcuno aveva promesso per il 15 aprile, oggi se non erro siamo al 16 aprile, zero, zero, senza nessuno spirito polemico, è solo una annotazione di cronaca, zero euro di cassa integrazione sui conti correnti degli italiani. Turismo dicevamo che insieme all'agricoltura e dopo l'industria sono i settori trainanti del Paese, agricoltura abbiamo avuto io e Gianmarco la fortuna questa mattina di ascoltare il Ministro dell'Agricoltura Bellanova in Aula al Senato che per salvare il settore ha proposto sostanzialmente la sanatoria di 600.000 immigrati clandestini da usare nei campi, ci sono due idee di taglia diverse, c'è quella rispettabile, non condivisa da noi, del governo e della sinistra sanatoria per 600.000, avete sentito bene, 600.000 lavoratori clandestini da usare nei campi, la proposta della Lega è quella di reintrodurre i voucher, quindi uno strumento di lavoro efficace, concreto, immediato, flessibile, per accompagnare al lavoro studenti, cassi integrati, disoccupati, pensionati, preferibilmente italiani, magari darà fastidio a qualcuno, però sono due visioni del mondo, lasciamo a voi decidere. Il turismo è probabilmente il settore che subisce di più e subirà di più se non ci saranno interventi concreti. Io cedo subito il microfono nel nome della rapidità e della concretezza Gianmarco Centinaio, responsabile per la Lega dei settori agricoltura e turismo, identiche iniziative con le proposte ai colleghi giornalisti, alle associazioni di produttori, ai lavoratori, ai sindaci e allo stesso governo, le faremo nelle prossime settimane sul tema energia, sul tema industria, sul tema commercio, sul tema artigianato, quindi settore per settore per accompagnare la ripresa però con i fatti e non con le parole. Proposte concrete che riguardano voi che ci state seguendo e vi ringrazio anche online per salvare un settore che ha dei numeri importantissimi, Gianmarco se non sbaglio, che riguarda il 15% dei lavoratori italiani. Sì, grazie Matteo. Innanzitutto buongiorno. Effettivamente il turismo è, a detta di tutti, in questo momento il settore che rischia di più, perché comunque dai sondaggi che sono stati fatti, anche dalle associazioni di categorie, abbiamo visto che buona parte degli italiani, anche se ci dovesse essere una ripartenza, faranno un po' più fatica a muoversi dalla propria abitazione, alcuni per motivi economici, alcuni per paura e altri anche perché in questo periodo gli sono state praticamente mangiate le ferie, quindi anche per impossibilità di poter utilizzare le ferie che potrebbero avere a disposizione. I numeri del turismo nel nostro paese sono numeri importanti perché occupa il 13% del PIL, fattura 232 miliardi di euro, quasi 15% dell'occupazione, come stavi dicendo, e ci sono circa quasi 4 milioni di italiani che sono occupati nel turismo. Quando parliamo di turismo parliamo del turismo tradizionale, ma mettiamo anche, per esempio, i più pubblici esercizi che in questo momento insieme al turismo la stanno pagando più di tutti. In un'ottica di collaborazione insieme al Dipartimento fatto dai colleghi parlamentari, dagli assessori regionali, ma anche fatto dai massimi esperti del turismo che ci sono nel nostro paese, abbiamo fatto una prima presentazione, se vi ricordate, circa un mese fa che l'avevamo consegnata consegnata nelle mani del Ministro Franceschini in data 3 marzo e siamo ancora in attesa di avere delle risposte, visto e considerato che nei decreti successivi non è stato inserito niente. E ora abbiamo rivisto insieme, abbiamo fatto un tour, un nuovo giro di consultazioni tra tutte le associazioni di categoria, le quali voglio veramente ringraziare tutti. Oltre le associazioni di categoria anche gli esperti del settore, ma anche gli imprenditori che ci sono messi a disposizione perché stanno vedendo e stanno dicendo tutti che oggi come oggi c'è bisogno. C'è bisogno perché? Perché il turismo mare ci sarà un problema, sono state azzerate tutto il discorso del turismo scolastico, il turismo della terza età, il turismo religioso, i viaggi all'estero non ce ne sono, le crociere azzerate anche quelle. Quindi quasi azzerati praticamente tutte le prenotazioni per quanto riguarda la prossima estate. Da un dato che ci è stato fornito da un'associazione, è un dato reale, fatti 12 i mesi dell'anno e il fatturato, molto probabilmente ci sarà una perdita secca di 9 mesi su 12. Quindi 9 mesi su 12 ci sarà fatturato 0 per quanto riguarda questo settore. Le proposte ne abbiamo messe, abbiamo fatto un piano strategico che poi chi vorrà lo troverà anche sui nostri siti e sui vari canali. Le proposte più importanti che abbiamo messo sul tavolo sono di due tipi. Una proposta in questo momento per aiutare le aziende, aiutare le imprese, per evitare che ci sia poi uno sciacallaggio da parte di fondi di investimento o imprese estere che vengano in Italia ad acquistare i nostri tour operator, le nostre agenzie di viaggio, i nostri alberghi e tutto quello che riguarda il turismo. E quindi quello che chiediamo è un fondo, l'idea di fare un fondo straordinario per quanto riguarda, speciale per quanto riguarda il settore del turismo, un fondo a, passatemi il termine, a fondo perduto, perché questo è quello che chiedono, non c'è bisogno di prestiti, non chiedono prestiti ma chiedono tutti un fondo a fondo perduto e quindi che venga utilizzato il più velocemente possibile. Altra proposta, quindi per l'immediato, è quella per quanto riguarda l'utilizzo del personale, quindi tutta la parte della cassa integrazione, ma anche quell'utilizzo dei voucher per chi potrà utilizzarli. Anche qui questa cosa noi l'avevamo proposta durante la precedente esperienza di governo, ma purtroppo non si era riusciti a portarlo a casa e quindi riproponiamo la richiesta di utilizzo dei voucher e poi facendo esempi di alcuni settori, pensiamo per esempio al settore balneare che è quello che è più vicino a noi in questo momento, chiediamo che venga applicato il più velocemente possibile il decreto quello per quanto riguarda i 15 anni di deroga, per quanto riguarda la Bolkestein, per quanto riguarda i balneari, ricordando anche i pertinenziali, ricordando tutti coloro che in questo momento stanno vivendo il dramma della Bolkestein. Per quanto riguarda la ripartenza, perché ci sarà un momento in cui si ripartirà, speriamo il più velocemente possibile, noi abbiamo fatto una proposta importante che è quella dei buoni vacanza, l'abbiamo presentata già il 3 di marzo al ministro Franceschini, il quale ci aveva detto ottima idea, ma poi non se n'è visto niente, l'unica cosa che abbiamo visto è stata l'onorevole Boschi che si è intestata alla nostra proposta proponendola agli italiani come se l'avesse fatta lei, e quindi benvenga, perché vuol dire che è una proposta intelligente e quindi può essere portata avanti, e l'utilizzo dei buoni vacanza sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, e quindi ripartire anche per l'anno prossimo, e tramite questi buoni vacanza si permetterà agli italiani che vogliono prenotare in Italia, e quindi strutture in Italia, e quindi la possibilità di fare vacanze nel nostro paese. Questo lo riteniamo importante perché facendo così si dà l'infa vitale alle aziende del turismo italiano, ma si permette anche alle famiglie di poter beneficiare appunto in un momento di crisi, in un momento in cui di soldi ce ne sono veramente pochi. Sì, quindi è quello che si potrebbe, si dovrebbe fare qualora fossimo al governo, non sono proposte dell'opposizione un tanto al chilo, quindi riassumendo, se in famiglia sono in quattro, e quest'estate volessero andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, in Trentino, in Toscana, o come faccio io, ahimè attaccato da anni, in Romagna, mille euro a famiglia, altri paesi europei danno questo finanziamento, e quindi è un investimento nelle nostre imprese. La reintroduzione dei voucher, è chiaro che se siamo in tempi di guerra, superare la burocrazia, i decreti dignità, e tutto quello che ha ingessato il mondo del lavoro è fondamentale, lo stop alla direttiva Bolkenstein, l'ultima cosa che ci serve è svendere sotto costo stabilimenti malneari, spiaggi o mercati, al primo offerente, alla prima cooperativa, o alla prima multinazionale, magari cinese, chi lo sa, e poi anche bisogna ridiscutere, ne parlavamo con Gianmarco, anche di una diversa impostazione fiscale e IVA sul turismo, perché l'Italia, a differenza di altri paesi europei, paga molto di più. E quindi era giusto farlo in tempi di pace, figurati se non è giusto farlo in tempi di guerra. Quindi almeno quattro proposte concrete, bonus famiglia, mille euro per andare in vacanza, reintroduzione dei voucher per bar, ristoranti, alberghi, spiagge, e agricoltura, come dicevamo poc'anzi, lo stoppa la svendita delle nostre spiagge, con la direttiva Bolkenstein da fermare, c'è stata qualche sentenza di qualche tribunale che ahimè Gianmarco da questo punto di vista ci ha riportato indietro nella nostra battaglia di giustizia, di indipendenza, e quindi mi sembra che l'ultima cosa da fare sia svendere, sotto costo pezzi di Italia, e poi l'abbassamento dell'IVA sulle imprese del turismo e anche sulla ristorazione, sull'accoglienza, perché poi ovviamente ci sono gli stabilimenti termali, ci sono i bar, ci sono i ristoranti, rischia di essere pesante. E su questo non ho sentito grandi proposte da parte dei ministeri competenti, purtroppo. Se ci sono domande, visto che la classica conferenza stampa a distanza, rispettiamo almeno una delle quattro D di cui parla il governatore Fontana anche oggi, che è quella della distanza, e prendiamo qualche domanda a distanza. Iva, se ci sono. Sì, ci sono, sul tema della conferenza, ma anche numerose sul MES. Alberto Lupini, Italia Tavola, vi chiede cosa ne pensate del fatto che nel team di Vittorio Colau, che dovrebbe gestire la ripresa, su una ventina di persone, non ce ne sia nessuno esperto di turismo. Beh, riguardando il 15% dei lavoratori italiani e il 13% del PIL, mi sembra una grave disattenzione, non da parte di Colau, ovviamente, ma da parte di chi ha individuato i nomi di questo team. E ricordo ai giornalisti e a chi ci segue che noi, dal governo, per l'allestimento di questa task force, non siamo stati assolutamente interpellati. Abbiamo letto sui giornali, come spesso capita, sulla scuola l'abbiamo letto sui giornali, sull'agricoltura l'abbiamo letto sui giornali, i decreti li leggiamo sui giornali, le task force, che ormai mi sembra si stiano moltiplicando, e se si moltiplicano non è mai un buon segnale, le leggiamo sui giornali. Gianmarco, sarà doveroso proporre l'integrazione perché il settore turismo non può essere ignorato? No, assolutamente, anzi, come dicevo prima, abbiamo fior di manager del settore, esperti di settore, anche professori universitari che hanno collaborato con noi, siamo disponibilissimi a ragionare con il governo per mettere a disposizione anche tutta la nostra apparato tecnico per aiutare la task force, e quindi non ci sarebbero problemi a dare una mano in questo... Noi vogliamo contribuire, mi sembra che il governo però nella stesura della squadra abbia dimenticato tanti settori dell'impresa italiana, perché a me personalmente sono arrivate tante segnalazioni e tante preoccupazioni, tante lamentele, da tanti settori imprenditoriali e industriali che sono stati completamente dimenticati, non vorremmo che ci si dimettasse al mondo dei professori, perché l'abbiamo già visto nel 2011, l'epilogo dei professori. Marco Liberati, Agenzia Agricole, Report ha lanciato una dura accusa agli allevatori lombardi sul quantitativo di azoto causati dagli sversamenti sulla correlazione tra PM10, coronavirus e allevamenti. Quali iniziative prenderete a riguardo? Gianmarco dà la risposta tecnica. Adesso mi aspetto un'inchiesta giornalistica o pseudo giornalistica per cui il virus non è nato in Cina ma è nato in una stalla bresciana, perché ormai siamo veramente al surreale. Fortuna che Regione Lombardia sta rispondendo in questo momento in diretta con un Consiglio regionale che invece di caccia alle streghe e di inseguimento alle vacche si sta occupando di imprese, commercio, industria e ripartenza. Poi in termini tecnici, adesso che in periodi così di crisi gli allevatori lombardi siano anche colpevoli dell'inquinamento del coronavirus. Però rispondiamo seriamente. Seriamente a me spiace che la TV di Stato faccia, trasmetta fake news di questo tipo, perché sappiamo benissimo che gli allevamenti, non solamente gli allevamenti lombardi, ma gli allevamenti italiani sono controllatissimi, sono tra i più controllati al mondo. La carne che esce dagli allevamenti italiani è una carne di altissima qualità e non lo riconosce solamente l'Italia, non lo riconosciamo solamente noi perché amiamo il nostro paese, amiamo il Made in Italy, ma viene riconosciuto dai più importanti organismi internazionali di controlli. E di conseguenza dire che gli allevatori lombardi o comunque gli allevatori italiani stanno inquinando o soprattutto dire che il coronavirus parte dalle nostre stalle penso che sia veramente, diciamo in modo molto educato, una fake news. È la stessa fake news che era stata lanciata qualche anno fa che dicevano che una stalla mediamente inquina molto di più rispetto alla tangenziale ovest di Milano nell'ora di punta. Se vogliamo colpire l'agricoltura e se vogliamo uccidere l'agricoltura italiana andiamo avanti divulgando cose del genere e penso che faremo male non solamente ai nostri agricoltori ma al nostro paese. Posso aggiungere una riflessione? Mi spiace andare al supermercato anche in questi giorni. Io ringrazio sia la grande distribuzione che le commesse che gli agricoltori che i trasportatori che i fornitori però quando guardi le etichette in questo periodo c'è ancora più tempo rispetto al solito per guardare le etichette trovi carne francese frutta straniera verdura straniera latte straniero pasta confezionata con grano straniero speriamo che sia la volta buona per tornare a un'autosufficienza agricola e alimentare italiana e poi non è un discorso da bieco sovranista Macron nel suo discorso alla nazione Macron e la Merkel hanno fatto pochi discorsi alla nazione ricchi di contenuto non faccio paragoni con altri paesi al mondo però Macron ha parlato di indipendenza agricola tecnologica e industriale francese quindi non stiamo parlando di Marine Le Pen o di Matteo Salvini o indipendenza agricola tecnologica e industriale francese però io oggi se vado al supermercato che ho sotto casa qua a Roma la carne è nata in Francia e allevata in Francia quindi tra le varie cose diamo anche un dato una nota catena della grande distribuzione ha previsto entro il 2022 di aumentare del 10% il numero di prodotti francesi in tutti i loro punti vendita in giro per il mondo Cos'è Carrefour? Sì Non si fanno nomi e cognome ma detto questo se io avvicino un S lunga con tutto rispetto per tutti vado all'S lunga Francesco Zucco Zucco TTG Italia sono previste proposte specifiche per le agenzie di viaggi? E il tuo settore ci lavoravi? Sì sono previste proposte specifiche per le agenzie di viaggi diciamo in tutta la parte quella riguardante la parte fiscale e faremo avere a TTG tutto l'elenco ai colleghi di TTG tutto l'elenco di tutte le proposte che stiamo facendo e che stiamo proponendo in questo momento io tra le varie cose l'ho detto pubblicamente in più di un'occasione qui non me ne vogliano i fautori dell'online ricordo semplicemente una cosa che personalmente continuo a fare nonostante lavoro nel settore del turismo continuo a fare le mie prenotazioni in agenzia di viaggio perché penso che l'agente di viaggio sia il professionista che ti consiglia e ricordo una cosa che quando è successo adesso tutta la questione coronavirus e la maggior parte dei turisti che avevano prenotato il proprio viaggio con un tour operator o con un'agenzia di viaggio sono rientrati alla velocità della luce o quasi con solo pochi che sono rimasti bloccati in giro per il mondo la maggior parte dei fenomeni i famosi turisti fai da te quelli che hanno prenotato online sono ancora lì che aspettano una riflessione su quello che si diceva ho letto che oggi in europarlamento la presidenta della commissione von der Leyen ha detto bisogna chiedere scusa all'Italia non basta non basta non bastano le scuse due sorrisi e due pacche sulle spalle gli italiani hanno versato 140 miliardi di euro nelle casse dell'Europa che sono andati ad altri paesi anche per sovvenzioni dell'industria dell'agricoltura e del turismo degli altri nessuno a Berlino o a Bruxelles pensi di mettersi in pari con l'Italia e con gli italiani andando in Parlamento in videocollegamento dicendo scusate non ci siamo stati io sottoscrivo l'appello dei 101 economisti e professori di economia italiani che dicono non si firmi quell'accordo piuttosto a ragione del presidente Conte facciamo da soli con buoni del tesoro italiani a condizioni fiscali vantaggiosi per gli italiani perché io preferisco avere il debito e il futuro degli italiani in mano a italiani non in mano a tedeschi o multinazionali o fondi stranieri Andrea Reale Ascanius volevo chiedere a Salvini cosa pensa della posizione di Berlusconi a favore del MES e se questo compromette l'unità del centrodestra Berlusconi lo chiamerò oggi stesso per ragionare di futuro penso che sia un errore accodarsi alle dichiarazioni supinamente pro MES di Prodi di Renzi di Zingaretti il MES è istituito attraverso un trattato che prevede per iscritto delle condizioni quindi è semplicemente un prestito fatto oggi che pagheranno i nostri figli domani il problema è a condizioni che non vengono imposte da Roma o dalla Banca d'Italia o dal sistema politico italiano ma vengono poste appunto da questo fondo istituito all'estero con un click da Bruxelles e quindi non occorre uno scienziato per intuire che passata l'emergenza queste condizioni potranno prevedere una patrimoniale una tassazione sui risparmi una tassazione sulla casa una precarizzazione del lavoro ulteriori tagli alla sanità pubblica ecco tutti quelli che parlano di sanità pubblica giustamente che va incentivata sappiano che se ci infiliamo in tunnel europei senza ritorno poi i primi tagli saranno quelli alla scuola pubblica e alla sanità pubblica quindi da questo punto di vista penso che Berlusconi sia stato mal consigliato e preferisco che il futuro dell'Italia sia in mano a italiani non in mano a burocrati o esponenti del mondo della speculazione o della finanza dall'altra parte del mondo o d'Europa sempre per Matteo Salvini la posizione dell'Italia sul MES secondo lei va decisa prima del 23 aprile e secondo lei è necessario un voto in Parlamento? secondo la legge è necessario un voto in Parlamento perché il pensiero di Matteo Salvini può essere accetto o non accetto la legge 234 del 2012 la cosiddetta legge Moavero prevede per legge non che il presidente del consiglio protempore decida sia voglia o non ha voglia di andare in Parlamento ascoltare il Parlamento e accettare il voto del Parlamento prevede per legge che prima dei consigli europei e quello del 23 aprile è un consiglio europeo con tutti i capi di stato e di governo nella maggioranza qualcuno fa il furbo dicendo eh ma è in videocollegamento non sono lì fisicamente e allora non è formale e allora quello che decidono non è formale ce ne freghiamo dai siamo seri è chiaro che è un consiglio europeo di cui sta discutendo tutta Europa ne parlano tutti i giornali tutte le televisioni tutti i parlamenti l'Olanda ha già votato gli impegni a fare e non fare del suo governo e noi ieri ci siamo sentiti dire da PD e 5 Stelle che il presidente del consiglio bontà sua verrà a informarci poi andrà a Bruxelles e una volta che tornerà chiederà il voto del Parlamento adesso va bene aver scritto giocondo sulla testa però staremmo pur sempre rappresentando e vorremmo farlo al meglio il popolo italiano quindi chi andrà a Bruxelles senza un mandato chiaro del Parlamento che rappresenta il popolo è al di fuori della legge questa non è polemica questa è cronaca legislativa e giuridica poi se il Parlamento vota maggioranza viva il MES anzi impicchiamoci impegniamoci vendiamo il Duomo e il Colosseo il Parlamento è sovrano in democrazia funziona così la Lega sarà contraria ovviamente in Parlamento e non dico nelle piazze perché nelle piazze virtuali per il momento però è fondamentale un voto parlamentare prima perché se io devo dare un mandato al mio Presidente del Consiglio per andare a trattare con quei limiti lo devo dare prima non dopo ho letto che Conte ha detto ma valuteremo se ci conviene o non ci conviene poi torno indietro e chiedo un voto a parte il fatto che fino a ieri l'altro il Presidente Conte accusava me Ramelone di spargere fake news perché lui il MES non l'avrebbe mai usato perché era uno strumento vecchio e inutile quindi se da strumento vecchio e inutile che non avrebbe mai usato già diventa argomento di discussione è chiaro che il Parlamento non va informato va coinvolto e occorre votare mi aspetto che dai piani alti qualcuno ripeto faccia rispettare la legge per coloro che sono collegati e non si fidano di Salvini che è un pericoloso razzista fascista e sparge fake news come i liquami degli allevatori lombardi legge Moavero legge numero 234 del 2012 articolo 1 chiaro prima del Consiglio Europeo il Presidente del Consiglio informa le Camere e ne accoglie gli indirizzi eventualmente votati noi vorremmo semplicemente che il Parlamento Italiano votasse sì o no a quella che per noi è una rapina poi ci dicono ma è una rapina light è il MES ma è il MES light se è una rapina è una rapina se è mano armata o se è col macete o se è col lo spai al peperoncino è pur sempre una rapina quei soldi si devono trovare in Italia con buoni del tesoro esentasse durata trentennale da far sottoscrivere gli italiani Saita dell'ADN sempre sul MES lei si aspetta qualcosa dal Presidente Mattarella pensa di chiamarlo oggi? No non vorrei essere anche uno stalker perché sarebbe la quinta volta in poco tempo che chiamo il Presidente Mattarella poi conosce lui come conosco io ma come conoscono in tanti qual è la legge che regola la vita in Italia c'è un articolo di legge che prevede che prima di andare a trattare in Europa con gli altri capi di Stato e di Governo il Presidente del Consiglio debba far votare dal Parlamento qual è il suo mandato ma mi sembra evidente se devo se devo comprare una torta vado prima dal pasticcere a dirgli come la voglio non è che vado dal pasticcere e dico fammi una torta poi me la fai e in base a quello che mi fai ti dico se mi piace o non mi piace mi sembra banale e conto ripeto noi non chiediamo l'intervento di nessuno però mi sembra rispettoso anche degli italiani che invece credono a rispetto dei fatti che il MES serva perché io ho letto articoli di giornale ripeto che dicono ma come non usate subito questi 35 miliardi a gratis innanzitutto non c'è niente di gratis è un prestito come tutti i prestiti va restituito va restituito con delle condizioni e le condizioni non verranno decise a Roma ma verranno decise a Bruxelles a maggioranza da altri paesi quindi perché io mi devo consegnare a meno che come qualche giornalista ha scritto non sia una scelta politica chiara per dire tanto fra un po' al governo non ci saremo più noi al governo magari arrivano gli altri e io preparo le manette per quelli che arrivano dopo li infilo nel MES così con un click ti faccio saltare quelli che gli italiani hanno votato non voglio pensare che qualcuno per salvare la poltrona abbia svenduto l'Italia anche perché ripeto la gente che ci sta seguendo da casa al diario dei giornalisti che lo fanno per professione di saluto e di ringrazio è ormai alla quinta settimana di clausura forzata quindi non ha voglia di polemiche di bisticci di cavilli ma allora l'articolo la legge dice che devi andare in Parlamento prima di andare a Bruxelles vai in Parlamento e fai andare in Parlamento prima di andare a Bruxelles punto anche perché il problema sono gli affitti che non sono sospesi le bollette che non sono sospese i mutui che non sono sospesi la liquidità alle imprese non esiste non è vera si è trasformata in zero anche qua prestiti da restituire se va bene con costi e tassi di interesse noi abbiamo segnalazioni di banche che per dare la cassa integrazione ti chiedono di aprire un conto o rispondono solo ai propri correntisti noi abbiamo segnalazioni di liberi professionisti che i 600 euro non se li sono ancora visti accreditare probabilmente non se li verranno mai accreditare quindi che la maggioranza stia litigando da giorni sul MES non è utile all'Italia Valenti Dell'Agi sempre per Matteo Salvini come commenta le ricostruzioni di stampa di oggi sulle irritazioni di Palazzo Chigi per la proposta di riapertura della regione Lombardia Palazzo Chigi vi leggerebbe una sorta di regia di Salvini per strumentalizzare buone notizie in arrivo della regione sempre colpa hashtag colpa di Salvini non commento ricostruzioni giornalistiche fantasiose e se fossi nei ministri nel presidente del consiglio sarei solo contento che ci siano interi pezzi d'Italia ma da nord a sud perché la stessa voglia di ripartire ce l'hanno gli imprenditori pugliesi ce l'hanno gli imprenditori campani faccio un piccolissimo esempio oggi faccio un intervento a sostegno del settore della ristorazione dei ristoranti delle pizzerie campane che non possono fare a differenza di quello che accade in tutta Italia a Roma come a Milano consegna a domicilio nel senso che De Luca nella sua ordinanzite acuta ha bloccato anche il cibo a domicilio che in un momento di difficoltà per molti è pesante quindi io sottoscrivo l'appello dei pizzaioli e dei ristoratori napoletani fateci almeno portare a casa in maniera sicura il cibo e le pizze alla gente quindi non so se ci sono ricostruzioni giornalistiche io non sono qua a trescare giorno e notte ringrazio Regione Lombardia ringrazio tutti i sindaci e i governatori di tutti i colori politici che stanno dando una speranza e una via di uscita e una luce in fondo al tunnel perché ci hanno detto che saremmo stati chiusi due settimane poi tre settimane poi quattro settimane poi cinque settimane adesso ci parla di fino a maggio non se ne riparla però ricordavamo l'Austria ha già riaperto i negozi e la Germania li riapre lunedì se noi siamo stati i primi a chiudere e abbiamo fatto bene e qua io ricordo quelli che scherzavano Fontana e Zaia che irridevano Fontana e Zaia hanno fatto bene però non vorrei che fossimo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire sarebbe un disastro economico senza precedenti Santarelli prima pagina Senatore Salvini più volte il centro-destra è stato invitato a Palazzo Chigi per confrontarsi con il governo e portare delle proposte concrete lei ha detto che su 204 emendamenti ne è stato accettato solamente uno perché c'è questa difficoltà a far partire la cabina di regia con le opposizioni? La domanda giusta dovrebbe essere posta all'altro lato del tavolo nel senso che noi abbiamo ascoltato agricoltori pescatori commercialisti consulenti del lavoro lavoratori frontalieri insegnanti precari della scuola sindaci medici infermieri commercianti e abbiamo portato un pacchetto di proposte ora su 204 emendamenti a un decreto nessuno si aspetta che te ne accolgano 100 90 80 però su 204 1 diciamo che la voglia di dialogo mi sembra assolutamente limitata a tal proposito lo dico prima così non c'è ricostruzione giornalistica ringrazio perché ho sentito stamattina il governatore della Lombardia Tiglio Fontana perché anche sul fronte medici infermieri e personale sanitario regione Lombardia ha messo sul piatto il doppio dei soldi messi sul piatto dal governo il governo per il personale sanitario ha messo 40 milioni regione Lombardia da sola ne ha messi 80 milioni per un incremento degli stipendi e oltretutto c'è l'impegno che mi confermava il governatore di stabilizzare i contratti di lavoro e trasformarli a contratti a tempo indeterminato per centinaia di infermieri che hanno accettato di mettersi a servizio in queste settimane nel senso che altrove verranno salutati e ringraziati è scaduto il contratto amici come prima giustamente è gente che ha rischiato improprio e si è meritata il posto fisso come direbbe Checco Zalone ecco questa non è una bieca strategia mediatica di Salvini ma è qualcosa di concreto e intelligente che regione Lombardia offrirà a questi lavoratori Penultima domanda Camilloni a Gemparla come mai non è stato individuato un canale preferenziale in Italia con le banche ad esempio Monte dei Paschi di Siena oppure e Banca Popolare di Bari che sono istituti bancari statali per erogare i crediti in modo tale da evitare gli alibi delle banche nella rimodulazione dei rischi è una domanda che ci siamo fatti anche noi e che è totalmente fondata ripeto qua non si tratta di parlare male delle banche anzi i lavoratori delle banche stanno facendo in questo momento il triplo del lavoro che fanno di solito la ridiscussione dei mutui dei fili dei finanziamenti degli affidamenti però è chiaro che se non c'è una norma chiara si lascia spazio all'interpretazione noi avevamo proposto un modello svizzero un modulo 500.000 franchi il 10% del fatturato dell'anno precedente autocertificazione e poi i controlli vengono fatti a valle in Italia si è preferita la via burocratica il coinvolgimento i sindacati i tavoli il merito creditizio il bilancio l'assestamento il fatturato dimmi te se chi è nel fango fino a qua a tempo di convocare avvocati commercialisti i revisori dei conti i consulenti del lavoro purtroppo in qualcuno sta ancora prevalendo nonostante il tempo eccezionale una mentalità burocratica statalista centralizzante assistenzialista mentre servirebbe tagliare tutta la burocrazia qualcuno mi ha attaccato perché ho usato le parolacce sanatoria condono pace fiscale secondo me per ripartire bisogna chiudere con tutte le pendenze del passato edilizie fiscali tributarie burocratiche resettare liberare il tavolo da tutte le carte ripartire da zero fare i controlli a valle libertà di impresa libertà di riammordernamento del tuo ufficio del tuo negozio del tuo albergo del tuo appartamento e i controlli poi li faccio alla fine se sbagli ti prendo ammazzate però non può essere un paese bloccato dai controlli preventivi e la sovrintendenza la corte dei conti e l'anac e i ricorsi e i contro ricorsi è questo che ci distingue come mentalità appunto da un approccio della sinistra lì è tutto burocrazia blocchiamo tutto fermiamo tutto e tassiamo tutto io mi aspettavo che i giornalisti approfondissero maggiormente è l'ipotesi di tassa patrimoniale che è arrivata da più parti del governo secondo me è una follia un'assurdità questo sì è un provvedimento anti-italiano altro che discutere di mess parlare di tassa patrimoniale sui risparmi il lavoro gli stipendi e le case degli italiani è un è un atto di ostilità nei confronti del popolo italiano per il senatore centinaio quanto manca e quanto pesa secondo lei in questo periodo di emergenza un solo ministro che gestisca politiche agricole e turismo questa era la proposta che avevamo fatto noi nel precedente governo perché c'era dietro un progetto non era come diceva l'attuale ministro Franceschini un capriccio dell'ex ministro centinaio secondo noi oggi come oggi il ministero delle politiche agricole alimentari perché tutti si dimenticano che quel ministero e anche il ministero delle politiche alimentari poteva essere abbinato a quello del turismo sappiamo benissimo che la maggior parte ormai dei turisti che vengono nel nostro paese o che si muovono nel nostro paese lo fanno anche perché apprezzano le eccellenze enogastronomiche del nostro paese di conseguenza quel ministero avrebbe potuto dare qualcosa in più fa sorridere il ministro Franceschini e il sottosegretario del turismo in questo momento che quando parlano di ripartenza parlano di ripartenza legata all'agroalimentare e all'enogastronomia allora non andava bene nel momento in cui bisognava rifare i ministeri e quindi hanno distrutto un progetto che era stato apprezzato sia da parte del settore del turismo che da parte del settore dell'agroalimentare non andava bene quel progetto e adesso per ripartire invece vogliono riparlare di quell'unione che ai tempi avevano detto che sembrava un'unione innaturale vediamo che cosa sapranno fare noi le idee ce le avevamo ce le abbiamo e dico ancora adesso e lo ripeto se hanno bisogno e vogliono confrontarsi con noi su fatti e su proposte concrete noi siamo a disposizione però diciamo che mi sembra di aver capito che dall'altra parte c'è voglia di non ascoltare abbiamo finito grazie ringrazio al volo tutti a parte chi è collegato l'Italia e gli italiani che stanno rispondendo in maniera incredibile a questa chiusura senza precedenti nella storia che comporta problemi sociali problemi economici problemi psicologici non indifferenti perché un conto è stare in casa sai magari la prima settimana è una cosa diversa hai più tempo per stare con tuo marito con tua moglie con i tuoi figli con i tuoi genitori la seconda settimana hai più tempo la terza settimana diciamo che inizia a essere impegnativo al di là della simpatia o meno del figlio della suocera o del marito la quinta settimana senza peraltro lavoro perché magari hai il negozio chiuso sotto casa e ti arriva l'affitto la bolletta il mutuo la rata inizia a essere pesante gli italiani stanno dimostrando una responsabilità enorme spiace che non ci sia la garanzia di tutela di tutte le aziende di tutti i posti di lavoro per tempo cosa che in altri paesi è già stata fatta abbondantemente dagli Stati Uniti alla Francia alla Germania alla Svizzera la solidarietà fra italiani fra comuni fra regioni è incredibile oggi sono partite altre quintalate di arance dalla Calabria direzione ospedali lombardi quindi al di là dei medici degli infermieri dei volontari degli alpini della protezione civile che hanno girato tutto il paese è anche bella questa solidarietà a volte sono simboli però quella arancia raccolta da un ragazzo in Calabria che finisce sulla tavola di un medico di Bergamo dice più di tanti decreti e di tante cose quindi invitiamo tutti a tenere duro perché ne usciremo più forti più sani di prima bisogna avere le idee chiare noi avremo tanti difetti ma un'idea di paese ce l'abbiamo parleremo nei prossimi giorni di sviluppo energetico di un piano energetico nazionale del rilancio dell'industria fondamentale il turismo e l'agricoltura ma non possiamo pensare di diventare il paese dove venire a fare un mese di vacanza mangiare la pizza e andare all'arena di Verona evidentemente l'industria l'impresa la manifattura la produzione rimane fondamentale quindi noi abbiamo ben chiaro come uscire da questo tunnel altrove sentiamo strani discorsi sull'assistenza sulla ricentralizzazione di tutto io oggi ho letto un sottosegretario che parla di ricentralizzare tutta la sanità pubblica nelle mani dello Stato se avessimo dovuto aspettare ma questo lo dicono i governatori di tutta Italia e di tutti i colori politici l'intervento dello Stato per i respiratori polmonari per le mascherine per i guanti per i camici per i saturimetri per i respiratori altro che strage quindi fortuna che è l'Italia dei comuni dei sindaci delle regioni delle bellezze delle differenze se qualcuno pensa di riburocratizzare ricentralizzare ristatalizzare ricomplicare tutto è lontano dalla realtà comunque grazie a tutti grazie 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 a tutti